La decisione ci mancherebbe legittima perché queste casse sono delicatissime. La condivido perché le opere linee sono troppo importanti per essere esposte alle intemperie. Purtroppo è andata così, hanno la decisione giusta perché sennò si riniverebbero le casse che sono molto, molto belle. Mi spiace sicuramente perché c'è tanta gente che ci lavora tutto l'anno e più per questo evento purtroppo ho sottoposto alle ingiure del tema. Inizio da qui perché mio marito è un portatore di cassa e poi proseguiamo. Avrei dovuto portare la cassa, quella della deposizione della croce? Sicuramente la deposizione della croce che è qua appunto è veramente la pelle d'occa. Sono di Savona quindi vengo qui. È interessante, è una cosa che non ho mai visto, quindi è una cosa del paese che mi farebbe piacere vederlo. Peccato quest'anno che piove e quindi è stata annullata. L'ho vista un paio di anni fa, l'ho trovata convolgentissima e si sente proprio il pathos della gente che vi partecipa. E quindi io che l'ho guardato sono rimasta coinvolta in una maniera diciamo piacevole e completa. Quindi sono qua di passaggio perché io da un pezzo vivevo a Milano, però mi piacciono da matti queste tradizioni ligure, proprio le adoro. Io sono nata a Monaco di Pamiera, sono cresciuta in Liguria e mi piacciono la Liguria e il Ligurio. E' andata così e ci rivedremo fra due anni.